Ecco il tuo bambino! Tesoro! Guarda la nostra bambina! Smetti di fare esperimenti per un secondo! Cosa? Oh no! La nostra bambina! Ehi, che cos'ha? Sono le sue braccia! Prenderò solo questo! Oh, questo! Per me è solo il caffè, per favore! È tutto qui! Grazie! Ecco il suo scontrino! Cosa? È un totale enorme! Ma chi ha preso tutte quelle caramelle? Beh, prenditela con il tuo bambino! Cosa? Non dimenticare il caffè! Cosa? Buon compleanno, tesoro! Ho giusto un regalo per te! Eccolo! Dov'è il regalo? Ma lo avevo in mano! Questo regalo, papà! Grazie! Eh sì! Quello è per te, tesoro! Wow! La mia nuova bambola preferita! La chiamerò Poppy! Uh! Sono contento che ti sia piaciuta! È un treno! Oh sì! So a cosa stiamo giocando! Poppy, preparati! Qui è dove si scende! Attento! Trano! C'è mancato poco, ma l'abbiamo salvata! Chi può risolvere queste equazioni? Ehm... Tu! Mamma, tocca a te! Ok! Non devo nemmeno alzarmi! Wow! Quello è il suo braccio! Perché la tua mano è qui, ma tu sei laggiù? Non hai scritto la risposta giusta, mamma! Ti do una F! Cosa? Perché? Mamma Gambe Lunghe è una sfigata! Smettetela di ridere, ragazze! Vedremo chi riderà per ultimo! Oh, grazie al cielo la lezione è finita! Siamo liberi! Ai! Allora chi è la sfigata adesso? Oh, ma guarda un po'! La bambina gioca ancora con le bambole! Go, 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 go! È la tua bambola preferita? Oh! Ora ci giochiamo anche noi! Amber, prendi! Vuoi la tua bambola? Oh! Una bambola volante! Non riuscirai a prenderla! Scommettiamo che ci riesco? Cosa? Ma come ha fatto? Ragazze? Avete chiuso con me! Oh no, corri! Non potete allontanarvi! Ti prego, non farlo! Giochiamo! Ai! Questo sì che è divertente! Ho ragione, Poppy! Buon compleanno, piccola! Ecco i tuoi regali! Cosa? Perché non ti stai divertendo? Stai festeggiando con i tuoi amici! Ops! Lei non ha nessun amico! Ho un'idea! Torno subito! Tieni qui, tesoro! Bene! Fai spazio allo scheletro! Papà lavora a un nuovo esperimento! Non preoccuparti! Arriva subito! La mia pozione magica è resuscita vivi! Guarda! È vivo! Grazie, professore! Accidenti! Cos'è quel mostro blu? Ehi, gente! Sono Aghiwaghi! Diventiamo amici! Buon compleanno, mamma! Questa è per te! Ah, grazie! Aghiwaghi! Ora sei il mio migliore amico blu! Cosa? Non è possibile! Ho un vero appuntamento! Woohoo! Vado a vedere il film con Peter! Evviva! Ci hanno invitato al cinema! Trucco rosa chiaro! Ora mi sistemo i capelli! La mia cravatta preferita! Sono adorabile! Colonia blu di successo! Sono pronto! Aghi? No! Io vado da sola! È così ingiusto da parte tua! Aghi non vuole stare da solo! Abbiamo finito i pop corn! Vado a prenderne altri! Aspetta un attimo! Voilà! Un'altra porzione al gusto formaggio! Grazie, mamma! Un bacio per Aghiwaghi! 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 Come sei finito qui? Ah! Un mostro! Beh! Direi di guardare il film insieme! Vuoi dei pop corn? Uh! Ha mangiato così tante caramelle! Ops! Papà! Mamma! Tutto questo zucchero fa male alla salute! Niente più accesso illimitato alle caramelle! Ma dai, papà! Ci sarà un lucchetto a combinazione sull'armadietto! Non riuscirai a romperlo! Ehi, mamma! Hai qualche snack con te? Sì! C'è un armadietto pieno di caramelle laggiù! Ehi! È tutto chiuso a chiave! Ti serve la password per aprirlo! Ecco un inizio! Il mio trenino! Rosso, viola, blu, giallo! Esatto! Evviva! Le mie merendine! Aghi ti ama! Il mio tesoro! Oh no! Aghi, hai mangiato tutto! Sono rimaste solo le carte! Ops! Papà, non è come pensi! È colpa sua! Che? L'uomo invisibile? Ops! Mamma, sei in punizione! Vai a finire i conti! Ragazzi, siete invitati alla mia festa! Passate a trovarmi! Grazie, mamma! Ci saremo! Ah, Lucy! Voglio vederti alla mia festa! Certo! Ti aspetto! Ehi, vieni alla mia festa? Assolutamente! Mai! Ehi, mamma! Posso avere anche io un invito? No, non puoi, Aghi! Spaventeresti tutti i miei ospiti e rovineresti la festa! So come sei fatto! Mi dispiace! Qual è il problema, Aghi? Sei così triste che sei diventato blu! La mamma non mi ha invitato alla sua festa perché avrei spaventato tutti gli invitati! Non è un problema così grave! Ho una pozione per il cambio di look! Bevila e sarà tutto finito! Posso avere un invito? Mmm, ok! Bella festa! Ma chi è quello? Ehi, ragazzi! Mmm! Cibo! Da paura! Che si dice, sfigati? Ehi, qual è il problema di questo ragazzo? Si comporta in modo strano! Ma mamma, chi è questo? La mia mano! La pozione ha smesso di funzionare! Ah! È un mostro! Ci salvi chi può! No, ragazzi! Restate! Chiamami mamma! Ciao, Alex! Aghi! Mamma, è così divertente! Vado io! La nostra pizza! Wow! Che carino! Ciao! Ho una pizza per la ragazza più bella del mondo! Pizza per me? Massimo tempismo, Aghi! Mamma, che ne dici di giocare con Poppy? Non posso, Aghi! Ho un appuntamento! Immortal Kombat! La prossima volta, scusa! Mmm! È così triste! Mamma non gioca più con me! Ehi! Cos'è questa cassetta misteriosa? Vediamo un po'! Cosa sta succedendo qui? Oh, cavolo! Cos'è stato? Dove mi trovo? Sono bloccato all'interno del gioco! Aiuto! Liberatemi! Cosa? Chi è là? Ah, la mia immaginazione! Papà sta dormendo! Aghi, dove sei? Aghi? Ma come sei finito nella tv? Cosa? Hai premuto il pulsante? Ok! Vediamo! Oh no! Ehi, aiuto! Non voglio rimanere intrappolato qui! Fammi uscire! Aghi, è tutta colpa tua! No, ragazzi! Non ho fatto niente! Cos'è questo rumore? Meglio spegnere la tv! A de notte! Sky, stai bene, figliolo? Alzati! Chi è questo tizio? Tuo padre! Guarda! La nostra foto di famiglia! Non ti dice niente? Oh! Ciao, papà! Figliolo, fatti abbracciare da papà! Figliolo? Cosa? Attento! Ehi, papà! Andiamo! Dobbiamo prenderci cura della tua salute, Sky! Forza! Ecco il mio lancio d'autore! Chi è stato? Papà voleva giocare! Prendi questa palla, tesoro! È un piacere vederti sfigato! È da un po' che non vai nell'armadietto! Oh, sono stufo di tutto questo! Ehi, mamma! Ho bisogno di una mano! Certo, figliolo! Fatto cosa? Resta lì! Ce ne occupiamo noi! Abbiamo braccia lunghe! E gambe lunghe! Ehi, cos'è stato? Figliolo? Vieni fuori, tesoro! Mamma, papà, grazie! Siete i migliori! Siamo una grande squadra da sogno! Un allenamento di famiglia! Figliolo, salta a bordo! Ecco, prendi un manubrio! Fatti dei bicipiti tonici come i miei! Manubri? È necessario! Non sono proprio tagliato per questo! Ok, ci proverò! Figliolo, stai bene? Ok, hai bisogno di un livello più facile! Ecco, una corda per saltare! Oh, guarda! Che si è missi! Dove? Non vedo nulla! Scusa, papà! La corda per saltare si è rotta! Che strano! Lascia perdere! Abbiamo mamma gambe lunghe! Tesoro, posso avere la tua mano? Odio saltare! Perché i miei genitori sono così flessibili? Ragazzi, oggi farete un test estremamente difficile! Se non lo superate, potete dire bye bye alla vostra istruzione! Prego! Ah, un gioco da ragazzi! Oh no, non so niente! Sky? Lasciami in pace! Non so nulla! Hai un bigliettino per me? La migliore mamma di sempre! Queste non sono risposte alla lista della spesa! Cosa devo comprare? A, C, D! Qui non li vendono! Questo non è il mio! Ecco, figliolo, il tuo bigliettino! La mamma ha confuso di nuovo i foglietti! Cosa? Sky sta copiando! Hai visto quelle strane braccia? Cos'erano? Ragazzi, ho solo avuto fortuna! Mamma, ho superato il test! Grazie per il sostegno! Oh, che discarica! È ora di pulire! Fermi lì! Dove pensate di andare? Sky, ho bisogno del tuo aiuto! Aiuto! Inizia a pulire, tesoro! I miei ragazzi sono fantastici! Grazie per il vostro aiuto! Tutta la famiglia fa colazione insieme! Ragazzi, ecco i vostri biscotti preferiti! Mangiate! Tesoro, sei fantastica! Proprio così! Come fa la mamma a farlo? Oh, sei qui! Mi dispiace di averti spaventato! Prendo una sedia dall'altra stanza! Mi piace guardarvi mangiare! Papà, mamma! Ha finito il succo! Non è un problema! Ne prenderò altro dal frigorifero! Ecco a te! Oh no! Anche questo è vuoto! Lascia fare a me! Il succo era qui da qualche parte! Ah, eccolo! Ecco a te, figliolo! Ho fatto una spesa veloce! Grazie, papà! La mia famiglia è fantastica! Erika! Il mio amore! Finalmente le chiederò di uscire! Oh no! Ho paura! È una pessima idea! Non tirarti indietro, figliolo! Parlale! Ah! Ciao, Erika! Sky? Che c'è? Dai, parlale! Ah, uomini! Si dimenticano sempre dei fiori! Dai questo a Erika! Ok, mamma! Oh, i miei fiori preferiti! Grazie! E dei cioccolatini! Grazie per il suggerimento, papà! Altri cioccolatini? Sky, sei così premuroso! Puoi uscire? Siamo occupiti dalle braccia lunghe! Figliolo, ho un regalo per te! Per me? Grazie, papà! Cosa c'è dentro? È un trenino! Proprio come ho sempre desiderato! Sono confusa! Dov'è il mio regalo, tesoro? Un minuto! Carol, ho una sorpresa per te! Chiudi gli occhi! Ehi, fratello! Mi vendi il tuo anello? Oh, certo! Allora, quanto manca? Oh, sono per me! Sei così premuroso, Theo! Ecco il tuo regalo! Guarda qui! Oh, una piccola scatola! Lo adoro! Grazie, tesoro! Non riesco ad aprirla! Che significa? È un altro scherzo? Aspetta un attimo! Ecco un indizio! I vagoni del treno sono un codice! Sei così intelligente, tesoro! Questo anello è fantastico! Il diamante rosa è la mia parte preferita! Iuuh, bel salvataggio! Mamma, papà! Cosa state pensando? Stiamo organizzando una festa, tesoro! Qual è l'occasione? Non ci sono feste questo mese! Andiamo a divertirci! Avete decorato tutta la casa? Chi è? I primi ospiti? Vado io! Oh, Huggy Wuggy! Ciao, mio soffice amico! Oh, ciao, vecchio amico! Che torta adorabile! Ehi, ne hai già mangiato una fetta? A chi ha avuto di nuovo fame in ascensore? Tu e i tuoi denti siete una causa persa! Chi è? Beh, vado io! Lo scienziato! Wow, guarda che braccia! È per me! Benvenuto! Belle braccia! Guardate chi ha portato! Lo scienziato! Ah, siamo tutti qui! Si balla! Chi c'è ora? Apro io! Mamma Gambe Lunghe? Oh, vedo che siete tutti qui! Ho buone notizie per voi! Mamma è in attesa! Sky, avrai un fratellino! Il piccolo Gambe Lunghe! Sky, stai bene, tesoro? Ah, certo che sì!